Il libro di oggi è la biografia di Apollonio di Tiana, scritta da Filostrato. Apollonio, filosofo greco del I secolo d.C., sul quale esistono varie leggende e mistificazioni dovute alla sua damnazio memorie nell'Alto Medioevo, ebbe l'intuizione di combinare la filosofia pitagorica alla meditazione braminica. In questa biografia di Filostrato si può ricostruire la sua vita sospesa tra immaginazione e realtà. Di sicuro sappiamo che la sua arte dell'annotazione mentale o scrittura interiore è stata poi ripresa anche nell'ambito dell'educazione religiosa cristiana, come testimoniano gli affreschi nelle chiese e l'architettura religiosa. Venerdì sera abbiamo imparato a ridurre il contenuto di un testo, verbale o non verbale, a una sola parola da impiegare all'occorrenza come annotazione di un'immagine di memoria.